Circa un anno fa le signore di Busall hanno realizzato un magnifico vessillo, un mini kilt si chiama in gergo, una trapunta della rosa della Malescrivia e questo siamo riusciti a farlo portare sulla Stazione Spaziale Internazionale dove il nostro ormai amico, il nostro padrino Paolo Nespoli ce l'ha mostrato in assenza di peso e ci ha mandato un messaggio di incoraggiamento perché la rosa della Valle Scrivia sia ulteriormente valorizzata e perché il Festival dello Spazio continui a ripetersi di anno in anno qui a Busall continuando quella che ormai è diventata una tradizione quindi siamo tutti un po' emozionati per questi avvenimenti per quanto mi riguarda questa cittadinanza onoraria che ovviamente mi fa battere il cuore un po' più forte per il mio paese d'origine e naturalmente anche per la videoclip di Paolo che è un grande amico e che mi ha fatto un bel favore e l'ha fatta a tutti noi portando nello spazio la rosa della Valle Scrivia Grazie Grazie Grazie.